Buongiorno a tutti, oggi sono molto serio, parlo della mia città, di Assisi, unica al mondo, lo diciamo tutti, da quando siamo nati diciamo quanto è bello Assisi, quanto sono belli i piccoli di Assisi, quanto sono belli i balconi di Assisi, quanta stronza la gente di Assisi, anche questo, quanta stronza, perché se tu gli porti l'acqua con le orecchie, tanto non è contenta, qualunque amministrazione comunale va su ad Assisi, c'è sempre lo scontento da tutte le parti, ma è logico, lasciano tutti quanti i debiti prima e se si accumulano ancora debiti, debiti, piscina ridotta in quella maniera, altre cose che poi non mi interessa. Sindaco, entrante, sindaca, dicono adesso sindaca, che non si dice sindaco, la proietti, beh, io sinceramente non sono del suo partito, ma a me quella donna mi piace, penso che possa risolvere qualche problema di Assisi. Ora dipende da voi commercianti. La piazza del comune, che cos'è? È anonima con quei quattro barretti là, è anonima, bisogna arricchirla. La sera deve essere come la piazzetta di Capri, deve essere vissuta la piazza, anche il turista che non è il turista del prete, quelli che servono poco, quelli che girano con la bandiera, con la Madonna o con Cristo, servono poco ai negozi, serve il turismo buono, il turismo che la sera può sentire un buon concerto in piazza. Tutte le sere, l'estate, tutte le sere ci deve essere qualche attrazione, ma non la banda di Rivotorto, ma non le stupidaggini, cose serie. Sindaco, chiamami, ti posso dare dei consigli, perché io posso fare qualcosa per Assisi. Mi volevo candidare, poi non l'ho fatto perché non sono molto serio, ho fatto tante cavolate nella mia vita che oggi come oggi non le rifarei. Però, io dico solo una cosa, si può sempre cambiare, anche da vecchi. Ora, dico ai commercianti, mettetevi d'accordo tra di voi per poter dare qualcosa di notte ad Assisi, di far tornare il turismo quello buono, quello che va a vedere le loggie fiorite, quello che va a vedere nei vicoletti è la bellezza di Assisi, che è nei vicoli, Piazza Nuova, Vescovato, San Pietro, San Giacomo, tutti, tutti. Ma c'è bisogno di buon turismo. Il terremoto, il terremoto è una scusa, il terremoto è una scusa. Vengono ad Assisi una coppia, la sera gira, è tutto vuoto, negozi vuoti, negozi chiusi, barre chiusi, e concettare i chiusi, insomma, aprite la notte, fino a mezzanotte, aperto, date vita a questa città. Non è soltanto la città di San Francesco, è anche la nostra città e bisogna viverla, viverla e viverla. L'avete fatta morire voi.